allora come già accennato oggi il tema è l'ottimizzazione bayesiana delle architetture per reti migliori sicuramente se voi già lavorate un po con tensorflow uno dei più grandi dilemmi una volta acquisiti i dati e costruito il primo modello è come riuscire a migliorare a ottenere il miglior modello possibile ci sono naturalmente molte strade per migliorare il vostro modello alcune prevedono l'utilizzo di iperparametri cioè parametri inerenti al modello come il back size, il learning rate, la scelta dell'optimizer e naturalmente laddove questo fosse previsto anche dei parametri stessi dell'optimizer oltre al learning rate ma poi soprattutto incide moltissimo l'organizzazione e i dettagli dell'architettura l'architettura non è banale perché l'architettura è quello che una rete urale determina la forma funzionale che la rete va a prendere dai dati normalmente in qualsiasi altro algoritmo di machine learning gli iperparametri sono sì importanti ma non decisivi e si permettono di adattare al meglio la forma dell'algoritmo ai dati che vengono ricevuti ed appresi in una rete invece l'architettura è decisiva l'architettura permette di imparare soluzioni specifiche per i dati che voi state fornendo in quel momento alla rete al momento le migliori pratiche per ottenere dei buoni migliori modelli di learning sono molto semplici e spesso anche ammantate di fantasia e magia allora innanzitutto avete molte scelte specie per il mondo delle immagini diretti pre-trained da cui poter attingere soluzioni dopodiché se questo non è sufficiente per il vostro problema comincerete sicuramente leggere dei paper cercati per esempio su google scholar o attraverso ricerche per parole chiave sul web una volta letti anche i paper e magari non avendo trovato una soluzione ottimale comincerete magari a dare un'occhiata a legare le competizioni machine learning con il predicato lì troverete tantissimi kernel dai quali poter prendere per esempio pezzi di architettura o architetture già preconfezionate per certi problemi tuttavia potrebbe non essere nemmeno questo sufficiente a farvi trovare l'architettura migliore e quindi andrete per prove errore ma soprattutto poi dovete contare sulla vostra fortuna di trovare la combinazione corretta di layers e anche in un certo senso un po di ingenuità perché spesso le soluzioni migliori sono quelle che non sono state battute i sentieri non battuti da altri ricercatori o esperti e potremmo anche finire qui il tolse naturalmente con queste buone pratiche però se io vi dicessi che potete attraverso un tuning accurato degli iperparametri potete ottenere la migliorete possibile possibile è possibile perché c'è un team di tensorflow in modo particolare c'è François Cholet che lavora continuamente per ottenere nuovi strumenti per migliorare i nostri modelli in tensorflow recentemente François ha utilizzato di tre novità molto importanti la prima è tensorflow cloud dove con una semplice linea aggiunta al vostro notebook al vostro script potete distribuire in cloud i vostri modelli i keras preprocessing layers che sono dei layers che aiutano ad approcciare i problemi di machine learning attraverso tensorflow end to end ovvero sono dei layer che prendono direttamente i dati grazi e li trasformano per voi prima che questi vengono che vado ad alimentare la rete norale infine keras tuner che è un sistema efficiente e flessibile per ottimizzare gli iperparametri dei modelli keras quindi tensorflow trovate già sul web il pacchetto che è facilmente installabile e trovate anche la documentazione naturalmente vedere la documentazione è interessante ma forse non illuminante e se voi sapete come utilizzare la cosa l'hyperturing parameter usando i metodi bayesiani non è tanto ma di dimostrare che funziona e che è particolarmente facile quindi immoltriamoci subito su un problema pratico e concreto io ho scelto l'internet movie database movie review sentiment è un dataset che è già trovato disponibile sia in keras che in tensorflow dove l'obiettivo è stabilire il sentiment di alcune review di film il dataset consiste di 25.000 reviews estratte dall'internet movie database queste sono già etichettate l'etichetta è binaria positivo negativo quindi è un problema abbastanza semplice le etichette poi sono bilanciate questo è molto importante vuol dire che abbiamo il 50% di etichette positive e il 50% di etichette negative questo ci permette di poter prendere la accuracy come un buon misuratore delle performance del suo modello se però vi suggerisco di guardare anche la loss in sé perché vi può dire quanto il modello è certo nelle sue predizioni anche se le predizioni sono fatte e poi i dati sono già abbastanza preparati infatti ciascuna review è già trasformata in una lista di indici di parola quindi non troverete la review scritta come la leggereste sul sito dell'inter movie database ma troverete una sequenza di interi ciascuno di quali rappresenta una specifica parola non soltanto per aiutare ancora di più sul lato dell'ingestione dei dati questi interi rappresentano, sono ordinati per la frequenza con la quale troverete le parole nel corpus di recensioni che fate aiutare quindi se per esempio prendete tutti gli interi per analizzare queste review fino a 10.000 avrete preso le 10.000 parole più frequenti che appaiono in that set ora su questo problema si può approcciare naturalmente con l'STM o con altre architetture semplici ho voluto partire subito da una soluzione abbastanza performante quindi sono andato a cercare su Kaggle competizioni simili, ne ho trovate ben tre osservando il tipo di architettura di soluzioni mi sono quindi orientato verso una soluzione semplice perché non richiede pre-trained quindi mi usa per esempio il working deck o alcun altro tipo di embedding già preconfezionato però anche complessa perché utilizza una serie di soluzioni che probabilmente non sono le prime che trovereste nel creare una rete che risolva questo problema vediamo qui il grafo della rete sviluppata allora una rete dove abbiamo l'embedded layer lavora su sequente di 256 parole l'embedded layer ha un output quindi dimensioni latenti 256 è applicato uno spatial breakout su questo e poi l'output si dirige da una parte verso un blocco di GRU di direzionali con skip layer quindi vuol dire che prima c'è una GRU che processa i dati e li passa poi come output verso un concatenate ma li passa anche verso un'altra GRU di directional che a sua volta passa il suo risultato al concatenate questo aiuta per esempio ad avere due livelli di astrazione delle sequenze canalizzate e poi sempre il spatial output quindi l'esercito di embedding va anche in una parte della rete dove abbiamo un layer convoluzionale questo ci serve per scoprire per esempio un pattern che non importa dove si trovi all'interno della sequenza sono appunto i rivelatori del sentiment della rete che stiamo ammettando naturalmente il convolutional poi c'è un max pooling un average pooling e un average pooling che permettono al risultato di essere concatenato tutto questo finisce in un paio di dense layers e si ottiene il risultato ora se facciamo il training di questa rete che è già di per sé complessa mettiamo che già dopo due epoche raggiunge il suo massimo sia in termini di validazione che di accuracy sulla validazione che di loss sempre sulla validazione abbiamo testato il modello sul test set fornito con dataset abbiamo una loss di 0.6 in natura e l'intera rete pesa circa 36 megabyte questa è già un'ottima soluzione però non naturalmente abbiamo perso Luca allora vediamo subito se riesce a riconnettersi le connessioni oggi stanno dando problemi praticamente a chiunque vediamo di contattare immediatamente Luca e vediamo se riusciamo a riagganciarlo ecco lo dovrebbe tornare arriva ecco ti di nuovo Gerolio mi senti? si ok mi devo aver cacciato fuori per qualche motivo a che punto eravamo rimasti fino a che riuscivate a sentirmi? allora ti chiedo di ricondividere le slide così le agganciamo ho cambiato rete adesso vediamo se perfetto è il bello della diretta esatto ok allora queste sono le slide torno indietro ok quanti minuti non mi sentivate più? esattamente quando ti abbiamo perso esattamente quando ti ho scritto ok pochissimo fa potremmo essere qui si perfetto riprendiamo scusate l'inconvenimento perfetto speriamo non succeda più allora le ricette per Keras Tuner vi ho mostrato poco fa la rete come è stata costruita osservando esempi su Kaggle e ora cerchiamo di fare naturalmente di meglio cosa facciamo? utilizziamo Keras Tuner e per fare questo dobbiamo seguire alcune ricette specifiche del package se voi già avete il vostro modello in una funzione che ve lo genera avete già il 50% del lavoro fatto altrimenti è necessario rappare il vostro modello dentro una funzione avendo cura che il primo parametro sia HP o comunque qualsiasi altra variabile voi desideriate perché? perché questa variabile sarà l'interfaccia tra il vostro modello e Keras Tuner dopodiché dovrete definire gli iperparametri all'inizio della funzione come metodi di HP questo vi permetterà di renderli parametrizzabili rispetto a Keras Tuner poi dovrete naturalmente sostituire tutti i valori della vostra rete che prima erano statici inserite immagino dei numeri specifici per stabilire caratteristiche dei layer con queste variabili con questi iperparametri così definiti e poi laddove vorrete creare architetture molto complesse dovete sviluppare dei blocchi a branch cioè dei sistemi di layer che si istantino all'interno della vostra funzione e che siano parametrizzati rispetto alle caratteristiche che volete testare della funzione vedremo proprio due esempi magari vi sarà più chiaro e infine definire in maniera dinamica tutti i iperparametri via via che create il modello vediamo adesso degli esempi col codice io quindi ho preso la funzione precedente e ho inserito HP vedete all'inizio nella sua definizione dopo di che ho proceduto a istantiare tutte le definizioni degli iperparametri che volevo testare ho individuato nella precedente architettura l'embedding site per esempio come qualche cosa di fondamentale da verificare in talmente avevo pensato a 256 dimensioni latenti come risultato dell'embedding qui ne vado a testare da 8 fino a 512 come faccio? prendo il mio input HP e utilizzo un metodo questo metodo può essere int può essere float può essere boolean può essere choice se scelgo int io andrò a testare numeri interi da un minimo valore fino a un massimo valore selezionando anche gli step quindi qui per esempio ho deciso di testare questi valori tra 8 e 512 per unità di 8 naturalmente darò un nome a questo iperparametro in modo tale che sia gestibile da carastina in questo caso l'ho chiamato con lo stesso nome della variabile embedding size la stessa cosa faccio con lo spatial dropout non sono sicuro che sia necessario quindi metto come minimo valore 0 e poi un valore massimo che in questo caso è il 50% quindi non steppe il suo nome questo viene tutti gli elementi che ritengo fondamentali per creare un'architettura flessibile da valutare da sperimentare noterete anche questo elemento variabile il numero dei layer sia per quanto riguarda i layer complizionali sia per quanto riguarda i layer ricorsivi e quelli densi in questa seconda parte vedete che anche lavorando con i layer complizionali ho stabilito un sistema dinamico per fare uno stack quindi per poterne utilizzare più di uno la definizione di conv layers viene a questo punto gestita da perastuner io posso iterare sul numero deciso di perastuner e creare tanti layers complizionali che si richiamano l'altro in modo da gestire interno della rete un numero flessibile di questi ho fatto la stessa cosa con le reti ricorsive in questo caso ci sono all'interno della mia interazione ulteriori iperparametri che vengono di volte in volte decisi ovvero non importa quanti siano i layers ricorsivi che va a testare perastuner per ciascuno io vado a creare un flag che mi dice se usa o meno il bidirezionale e un flag che mi dice se utilizza lstm oppure il gru naturalmente ho anche un iperparametro che mi riferisce il numero di unità utilizzate infine anche qui faccio la stessa cosa per i dense il modello poi viene restituito dopo aver naturalmente anche scelto l'ottimizzatore e qui ho un choice tra vari learning rate ho deciso di fare una scelta discreta e anche una scelta discreta per gli ottimizzatori che sono richiamati da una funzione esterna dove io vado a scegliere con il choice un valore intero tra 0 e 5 a seconda del valore vi viene restituito un diverso tipo di ottimizzatore una volta sviluppata la vostra funzione in questo caso il create tunable model la si passa alla bias e ottimizzazione del terrestre che è una funzione molto semplice dove prende come parametri l'hypermodel quindi la vostra funzione che si tratta il vostro obiettivo in questo caso è l'accuracy in validation e ha bisogno per poter lavorare di un'indicazione su quanti trial cioè quanti test volete effettuare e da quanti test random volete partire cioè il nome initial points dovrete fornire anche una directory e un nome di progetto perché ogni esperimento verrà salvato da cara steward quindi potete benissimo iniziare con pochissimi esperimenti per vedere quanto tempo vi occorre e poi riprendere ogni momento perché andrà a rileggersi la stessa diretta e lo stesso progetto andrà a riprendersi tutti gli esperimenti già fatti una volta stabilito il tuner è sufficiente utilizzare il metodo search che funziona esattamente come il sito di Keras fornite il vostro trend data le labels il numero di epoch la batch size il validation se volete farlo shuffle o meno il livello di verbosità e potete anche definire le callback epoch e batch size non sono direttamente ottimizzabili dovete utilizzare un escamotage in questo momento di sviluppo di Keras Sotto vedete un riferimento al un issue di sviluppo in futuro sicuramente saranno molto più facilmente ottimizzabili per cui in epoche se voi utilizzate l'early stopping sarà molto facile che la vostra rete si ottimidi rispetto al massimo valore raggiunto di performance sui validation in questo caso un early stopping sulla balac che stiamo ottimizzando con Restore Best Weights vi consente di avere sempre il miglior risultato lanciando lanciando questa ottimizzazione lasciandola per un po' funzionare 60 esperimenti hanno richiesto circa 6-8 ore per questo progetto si ottiene questo risultato vedete che comunque non è cambiato all'ottimizzazione dopo due epoche abbiamo il picco sia di validation che il miglior risultato di loss sul nostro validation set però da un punto di vista di test set il loss è decisamente migliorato migliorato praticamente del 50% scendendo dal 0.6 al 0.27 l'accuracy stessa è migliorata ma soprattutto la rete si è ridimensionata è diventata di 26 MB quindi è molto più veloce ed è molto più performante per le previsioni che cosa ha trovato il Keras Tuner ha trovato che innanzitutto sbagliavo a scegliere un numero limitato di embeddings dovevo perlomeno raddoppiarli ha notato che il bi-directional non serviva probabilmente a nulla bastava utilizzare una GRU e poi una LSTM però un pochino più potentiate rispetto a quelle che ho scelto io e infine suggerisce di utilizzare più convoluzioni in stacking e naturalmente anche dei kernel più robusti di quelli da me scelto infine suggerisce anche di aumentare i dense layers a 3 e anche qui utilizzando un numero molto più alto di unità questo ha permesso di ottenere un risultato decisamente eccellente a questo punto vi domanderete abbiamo ancora un po' di tempo 5 minuti vedo riguardo l'ottimizzazione bayesiana il risultato è interessante quello che è con la carastina ma come funziona perché dovremmo preferirla rispetto alle best practice che conosciamo oppure ad altri metodi che magari si sono più intuitivi come random search allora il random search va detto che comunque è il gold standard laddove voi state ottimizzando un numero particolarmente elevato di iperparametri rimane sempre il metodo migliore specialmente se i vostri test sono parallelizzabili ovvero se avete possibilità di gestirli parallelamente perché random search fa esperimenti indipendenti l'uno tra l'altro è che come è stato spiegato nel paper di Bergstra e Benjo il suo vantaggio principale è che tutti i parametri poco importanti alla fine non vanno a influire nello spazio di ricerca e i parametri importanti hanno la possibilità di essere correttamente campionati ma più di questo vantaggio non vi dà laddove voi avete invece una situazione dove non potete utilizzare multiprocessing e questo è tipicamente vero quando utilizzate le GPU specie su computer locale che disponite solo le CPU e quindi il vostro porto è sequenziale la strategia migliore è quella dell'ottimizzazione bianesiana e vi ricordo che anche dietro comunque al sistema di ottimizzazione di Google Cloud Machine Web Engine l'idea chiave dell'ottimizzazione bianesiana è che non si ottimizza direttamente l'algoritmo di Machine Learning come fanno il grid search o il ma si cerca di sviluppare una funzione proxy che cosa fa questa proxy questa proxy cerca di simulare il vostro algoritmo quindi in questo caso della vostra rete nurale e ha come input il vostro spazio degli iperparametri quindi accetta questo come input e come output il risultato della vostra rete in questa maniera che cosa è possibile fare è possibile testare facilmente come si comporterebbe la vostra rete cambiando iperparametri con un costo decisamente inferiore di quello che occorrerebbe provandola effettivamente quindi l'alpinazione bianesiana in verità è tutta incentrata nella costruzione di questa tuttune proxy procede in talmente randomicamente quindi non è diverso da random search ma poi un minimo di sampling dello spazio di iperparametri comincia a sfruttare le informazioni che già possiede andando a cercare quelle combinazioni che potrebbero maggiormente essere profitte rivelando la struttura di questa funzione proxy che state cercando di costruire in modo particolare con escamotaggio riesce a bilanciare perfettamente l'exploiting della funzione costruita cioè è in grado in ogni momento di darvi la migliore soluzione possibile che è l'exploration cioè continua comunque a validare a cercare soluzioni vedete in questi due grafici come per esempio nel grafico a sinistra l'ottimizzatore Bayeziana cerchi di indovinare la funzione rappresentante della vostra rete neurale che è quella tratteggiata in rosso e abbia in questo momento costruito una funzione verosimile ma non precisa la fatta attraverso una serie di campionamenti che sono le osservazioni che voi vedete come punti rossi questa funzione proxy si chiama funzione surrogata e l'opinizzatore Bayeziana continua a migliorarla andando a vedere che cosa una funzione che si chiama funzione di acquisizione che è derivata dalla vostra funzione surrogata che cos'è? non è altro che la banda superiore di errore della funzione surrogata andando a vedere la banda superiore quindi le stime più ottimistiche va a cercare sia nei luoghi dove c'è maggiore incertezza quindi l'ottimismo è dato perché non sia ancora verificata per lo fatto di tre parametri oppure le zone dove effettivamente l'algoritmo risponde meglio a quel set di parametri solitamente la surrogate function più utilizzata sono i processi gaussiani che sono distributori di funzioni un algoritmo abbastanza sofisticato vi dico semplicemente che nasce comunque in ambito minerario serviva per fare il drilling in Sudafrica i sondaggi per trovare l'oro ogni sondaggio era molto costoso quindi serviva un metodo statistico che permettesse di minimizzare in uno di sondaggi quindi per concludere facciamo un wrap up di questo intervento Teras Tuner perché lo suggerisco perché innanzitutto è intuitivo come API e come avrete visto si integra perfettamente già nel vostro processo di utilizzo di TensorFlow e Teras è sufficiente parametrizzare alcune caratteristiche della rete e ripensare la vostra rete in maniera qualche volta leggermente diversa cioè modulare vi offre poi lo stato dell'arte degli algoritmi di hypertuning quindi avete random search avete anche l'imperband che è un sistema di miglioramento di random search dove il random search viene via via limitato nella sua estrazione casuale di esperimenti da quelli precedenti e poi avete il volume search che è quello che suggerisco perché per quanto sequenziale vi fornisce le scelte più informate e naturalmente lo potete utilizzare non solo per TensorFlow ma anche per Teras scusate per Psychic Learn vi permette poi di registrare tutti gli esperimenti potete ricominciare ogni volta che volete quindi potete partire con pochi esperimenti e poi cercare di creare la massa corretta di esperimenti che vi diano la migliorate io suggerisco dai 30 ai 60 esperimenti e soprattutto vi forza TerasTimer a pensare alla vostra rete neurale come un sistema modulare quindi creando circuiti e blocchi che vi consentono già di per sé di avere un approccio funzionale migliore alla costruzione di rete neurali e come ultima cosa trovate il codice su VTAB quindi potete sperimentare quello che vi ho raccontato oggi direttamente con questo lascio il Q&A vi ringrazio dell'attenzione e lascio la parola alle vostre domande Luca prima di far interrompere la condivisione ti chiedo siccome ce l'hanno chiesto se puoi mostrare nuovamente i link a GitHub erano due perché si sono visti poco allora sì erano questo lasciamo qualche secondo purtroppo c'è quel quel badge sotto che aveva nascosto i link ah mi spiace no nessun problema era questo anche perché no c'è una check eccolo qui ok l'altro era quella dell'iscio su GitHub relativa al numero di epoche fisse eccolo qui e anche questo lo possiamo poi comunque ricorderai a tutti la nostra audience che saranno pubblicate tutte le cose assolutamente perfetto ok allora ti chiedo se puoi interrompere la condivisione in modo che io possa ok allora quindi abbiamo smarcato l'urlo ti leggo la prima domanda Lorenzo ci chiede intanto ti fa complimenti davvero molto interessante poi chiede si può applicare la stessa ottimizzazione anche a reti di convulsione multidimensionali che lavorano ad esempio su immagini assolutamente sì su qualsiasi architettura neurale ok l'unico limite è naturalmente utilizzare Tensafluo EKS ok prossima domanda Alessandro ci chiede anche lui ti fa complimenti e chiede quali sono i vantaggi di Keras Tuner rispetto alle tradizionali librerie di Bayesian Optimization quali Optuna o Hyperopt perfetto allora io premetto che non ho grande esperienza con Optuna ma ho lavorato un sacco con Hyperopt Keras Tuner ha dalla sua parte una grandissima facilità la fin fine l'ottimizzazione bayesiana è la stessa per tutti questi package ci possono essere per esempio diversi parametri di default che le possono rendere in queste librerie più o meno performanti sui differenti problemi però il punto principale di Keras Tuner è che è perfettamente integrato con Tensro e Keras e che è veramente facile da utilizzare infatti inizialmente anch'io lo restio a cambiare le mie brutte abitudini usando questo nuovo package e mi sono invece reso conto che una volta impostata la rete era un attimo ottimizzarla era un attimo perché mi bastava semplicemente cambiare la funzione generatrice parametrizandola e poi naturalmente invece di utilizzare il fit che già utilizzavo cambiare e mettere il Tena di Keras quindi la facilità e il suo punto di forza ok perfetto allora non vedo altre domande Luca se ne posso batta scrivermi ok comunque pubblicherò anche qualche cosa su Terrascuner c'è grande interesse in questo momento l'utilizzo è sempre più intenso di Tensro e delle reti neurali ma problemi relativi ai dati tabellari ed è fondamentale riuscire a trovare in questo caso la giusta architecture specie su problemi inesplorati problemi nuovi non ci sono pre-trained quindi bisogna crearsela e spesso è un un processo quasi magico dove alchemico dove si vanno a sperimenti anche l'ho fatto e mi sono appena sono nero su termini l'approccio più scientifico sperimentale basato sulle prove però informate che è ben diverso da quelle che possiamo fare noi un po' d'occhio e croce sulla nostra esperienza sul nostro sentimento durante le tue slide mi associo in tanti complimenti è stato molto chiaro e l'argomento è anche molto complesso quindi veramente un'ottima presentazione durante le tue slide mi venivano in mente le lezioni di analisi matematica 1 quando si lavorava tantissimo con Taylor con approssimazioni successive e mi ha ricordato tantissimo quell'approccio perché alla fine una surrogata va a cercare di avvicinarsi ed è bello vedere come un qualcosa che magari quando li ho studiati io un po' di anni fa chi ci poteva mai pensare che quell'approccio alla fine potesse essere utilizzato per una cosa così complessa interessante bell'approccio questo è bello e anch'io scopro sempre applicazioni di cose teoriche che pensavo molto lontane dalla realtà e che invece sono applicate anche con con semplicità i problemi che affrontiamo tutti i giorni Luca grazie mille grazie a tutti presenti sempre a disposizione se avete domande ok ciao a tutti a tra poco